Allora, siccome siete una cifra, allora siamo calcolati che venivamo da un posto, palmetto che ho bevuto un po' di vino, venivamo da un posto, praticamente siamo stati a Percelli sabato scorso e c'era sto posto qua, sto centro sociale, niente di incontrare i centri sociali, ma c'era praticamente un pubblico dei raper davanti a noi, no? E noi che stavamo con queste cazzo di canzoni, loro venivano tipo da hardcore, punkcore, tutto, popcore, tutto, insomma vabbè, venivamo da sto posto qua, quando siamo arrivati noi hanno fatto proprio la figura di merda, no? Più di quella che stiamo a fare adesso, molto di più, perché c'era parecchia più gente, stavo tutta a Martafonia, vabbè, il succo della cosa è questa, non avevamo provato che sera a sera, però secondo me è un pezzo di chiusura nostra e Antonio è contradiato a sta cosa perché non lo sa, lo sai fa uguale? Vabbè, lo fa uguale, lo fa uguale, non è più un piaccio. Bravo! Maestro, per favore, un do. Che sera, sera, whatever will be, will be, the future's not, I want to see. Che sera, sera, che sera, sera, whatever will be, will be, the future's not, I want to see. So when I was just a little boy, I asked my mother, what will I be, will I be himself, will I be rich, than what she say to me. Na, na na na, na na na, you will not it. Che sera, 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 whatever will be, will be, the future's not, I want to see. K-S-R-A-S-R-A K-S-R-A-S-R-A Whatever we'll pay, we'll pay The future's not what you'll say K-S-R-A-S-R-A Siamo sotto la S, però mi sa che lui ce l'ha posizionato tipo sotto la Z, non lo so, ha fatto qualche maghezzo, l'ha visto. C'era l'APD Skinny, poi chi lo vuole prendere? Dai cosa come tu? Finito il concetto, adesso ce la faccio di restare di start off! Start off! Start off!